L'edizione 2017 del calendio maggio di Assisi diventa open e si estende nei punti della città tradizionalmente non investiti prima, introducendo alcune novità. Una lotteria abbinata a Madonna Primavera, il coinvolgimento delle scuole primarie del Comune di Assisi con giochi del Rinascimento e ancora la sfida cortese a colpi di Lazio e Canti per i vicoli della città, una mostra di costumi storici di Daniele Gelsi e la fiera di Bernardone. Iniziative collaterali e programma ufficiale sono stati presentati dal presidente dell'ente Calendimaggio Lanfranco Pecetta e da Stefano Venarucci, coordinatore delle manifestazioni collaterali, presenti anche il sindaco della città di Assisi Stefania Proietti e l'assessore al turismo Eugenio Guarducci. L'edizione 2017 del calendio maggio si terrà dal 3 al 6 maggio, si inizia come da tradizione con la consegna delle chiavi della città mercoledì 3 maggio. La parte de sopra Benedirei Vessilli nella cattedrale di San Rufino, mentre la parte de sotto nella basilica superiore di San Francesco. Alle 15.45 il corteo dell'ente Calendimaggio partirà da Santa Chiara per giungere alle 16 in piazza del Comune, dove avverrà l'esecuzione dell'inno del coprifuoco. Il saluto del presidente magistrato e del maestro di campo che assumerà i poteri sovrani. Ingresso dei cortei e a seguire la restituzione del palio e la lettura dei bandi di sfida. Dopo l'uscita dei cortei percorso Mazzini e piazza Santa Chiara sarà la volta alle 21.30 per la parte de sotto delle scene di rievocazione di vita medievale. Giovedì 4 maggio avverrà l'elezione di Madonna Primavera. Venerdì 5 la sfida tra i tamburini di parte de sopra e parte de sotto. Ci sarà l'esibizione tra i tre finalisti della contesa. A seguire lo spettacolo di sbandieratori con gli sbandieratori di Assisi e altri due gruppi, uno toscano, l'altro laziale. Sabato 6 maggio nel pomeriggio la sfida in piazza del comune e la sera avverrà l'assegnazione del palio.